gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia il presidente del consiglio giuseppe conte il ministro della salute roberto speranza il ministro dell'interno luciano lamorgese saranno interrogati dai giudici di bergamo sul caso delle zone rosse mai diventate quelle di alzano e nembro i soldati erano pronti a chiudere ma l'ordine non è mai arrivato la procura di bergamo ha fatto sequestrare ai carabinieri del nas nuclei antisofisticazione tutte le cartelle cliniche di quelle periodo fino al 7 di marzo ma per necessità useremo un riassunto un riassunto breve fontana governatore della lombardia dopo aver consultato gli avvocati della regione scrive una lettera una lettera il 3 di marzo chiedendo al governo di chiudere e questi due queste due località alzano lombardo e nembro immediatamente gli avvocati dello staff di fontana gli dicono è prerogativa del governo fontana averiguato dopo aver controllato verificato che era così dice non posso fare un qualcosa che non mi spetta per non avere problemi no problemi legali chiedo al governo immediatamente il governo non ha mai risposto a attilio fontana non ha mai risposto la risposta non è mai arrivata è stato poi chiusa tutta l'italia prima tutta la lombardia e poi tutta l'italia ma la risposta non è mai arrivata quindi parliamo di bergamo dove tutto è cominciato poi si diffonde a tutta italia prima le zone rosse dell'odigiano intorno a codogno dove era stato scoperto il paziente zero quello chiamato cosiddetto zero ma così dopo tre mesi l'italia riesce a uscire da questo tunnel per il momento speriamo sia definitivo anche se tutti parlano comunque di un possibile ritorno di questa di questa malattia e così vediamo che il 27 febbraio c'è poi un nuovo nuovo focolaio che proprio comincia nella zona di Nembro è il quarto comune più colpito in lombardia attenzione il quarto comune più colpito in lombardia al pari di casal pusterlengo che rientra però nella zona rossa mentre alzano è il settimo comune nel 28 febbraio marco rizzi primario del reparto di malattie infettive del papa giovanni ventitresimo di bergamo è il primo ad andare contro la corrente la crescita diceva è rapidissima a partire da un focolaio che si è sviluppato dall'ospedale di alzano la terapia intensiva e ogni altro reparto sono già saturi servono misure di contenimento e così arriviamo poi c'è anche il caso appunto di alzano nella provincia di bergamo dice è in corso una strage ma da dove è partito il contagio lo ha già detto rizzi è ormai cosa nota e così da qui la definizione delle zone rosse la prima interlocuzione della lombardia con il governo aveva per oggetto la provincia di bergamo risale al 2 di marzo seguono alcuni giorni di discussione durante i quali il presidente fontana e i suoi assessori non arrivarono mai a chiedere l'istituzione di una vera e propria zona rossa poi il comitato tecnico scientifico l'emergenza e il governo gli esperti propongono di adottare le opportune misure restrittive già in uso nei comuni della zona rossa al fine di limitare la diffusione dell'infezione nelle aree di contagio il 3 di marzo viene poi comunque inviata questa questa missiva no la sera del 5 al governo la sera del 5 di marzo al palace hotel di verdellino arrivano 100 carabinieri del reggimento di milano davanti all'albergo sono parcheggiate camionette e blindati delle forze armate noi siamo pronti dicono i militari dell'arma dei carabinieri quarta forza armata a due chilometri di distanza al continental di osio sotto ci sono altri 100 poliziotti una compagnia poi 80 soldati dell'esercito e altri 50 finanzieri tutto è pronto per la zona rossa ma l'ordine dal comando generale dei carabinieri dal comando delle forze armate dal governo italiano non è mai arrivato l'ordine non è mai arrivato alzano lombardo e nembro diventeranno zona rossa solo il 9 marzo insieme al resto della lombardia e dell'italia è passato il 3 4 5 6 7 8 9 7 giorni una settimana lunghissima una settimana veramente veramente lunga nel quale ovviamente il contagio si è diffuso e i decessi sono aumentati quindi qui non si parla solo non è stata fatta la zona rossa è stata fatta appunto il non aver fatto la zona rossa ha comportato delle conseguenze gravi gravissime a catena perché giuseppe conte non ha chiuso queste zone è arrivata una richiesta del 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 della regione lombardia con il suo governatore che ha chiesto immediatamente la chiusura di queste zone rosse perché non era di sua competenza come poi verificato dai magistrati di bergamo perché il primo interrogatorio è stato fatto proprio a attilio fontana governatore e giulio gallera assessore al welfare in questo interrogatorio i giudici verificano comprendono e arrivano alla conclusione che le zone rosse è prerogativa del governo proprio i magistrati dicono ci risulta che doveva essere il governo a chiudere e si dice dovranno poi essere chiamati interrogati conte speranza e la lamorgese e così poi è arrivata questa convocazione non sapevo io se cosa sarebbe poi successo perché abbiamo visto il caso palamara abbiamo visto una certa parte della magistratura muoversi contro i politici del centro destra anche se non hanno fatto niente di male bisogna attaccarli fango praticamente su tutta la magistratura ma fango non fango arrivato dal dentro la magistratura da questa parte della magistratura diciamo politicizzata che cerca di sovvertire l'ordine democratico e attenta agli organi costituzionali dello stato qui perché giuseppe conte non ha risposto non ha risposto perché era il governatore della lega politico di spicco non ha risposto perché dice tanto lo devono fare loro non gli rispondere neanche a quello lì non gli rispondere a quello lì che lo faccia mi sta solo dando fastidio io sto sto ipotizzando quali potrebbero essere stati i pensieri del presidente del consiglio perché sapeva che la lombardia aveva chiesto due zone rosse e non l'ha fatto sapeva e non l'ha fatto sapeva e non ha agito i militari forze armate la guardia di finanza i carabinieri erano già pronti erano già pronti erano stati già preallertati ma l'ordine non è arrivato mai e quello che ha provocato quello che ha provocato è omicidio colposo sapete che c'è omicidio volontario omicidio colposo omicidio colposo plurimo deriva dal fatto che quando è omicidio colposo quando hai la colpa di aver omesso degli atti fatti per impedire in questo caso ulteriori decessi quindi l'omissione di un comportamento che doveva essere adottato ha portato a omicidio colposo plurimo e quindi questo è quello che è successo i magistrati dovranno verificare e nel caso incriminare delle persone o una persona per omicidio plurimo aggravato e strage io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita siamo anche in facebook nella pagina tele italia grazie per avermi ascoltato e buona giornata